Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. In questa piccola chiacchierata voglio discutere con voi quello che io credo sia la differenza tra la parola sconfitta e perdita. Ne parliamo subito dopo la sigla. Qualche giorno fa ero nella segreteria di una palestra e stavo discutendo per un lavoro quando iniziano fuori le confessioni. Il titolare della struttura mi dice che prima svolgevo un'altra attività e che perdere quell'attività negli anni passati è stata una delle sue più grandi sconfitte. Al che io ho fatto notare che io non la vedrei così, bensì la vedrei come un'opportunità per cambiare se stessi e cambiare l'attività che si è fatta. Infatti adesso c'è un'attività di successo e prima invece era nella media. Questo che cosa ci insegna? Questo ci insegna che in realtà non bisogna scoraggiarsi quando avviene un avvenimento negativo nella nostra vita, ma bisogna raccogliere tutte le forze che abbiamo a disposizione per poterci rialzare e poter andare avanti. C'è un'enorme differenza tra la parola perdita e la parola sconfitta, secondo me. La sconfitta è quando noi non abbiamo più la forza di poterci rialzare, non abbiamo più la forza di poter combattere, è quando abbiamo perso la speranza di vincere, quando non abbiamo più progetti da fare, quando pensiamo che una strada sia completamente chiusa e non vediamo altri vie di uscita. Invece la perdita è un momento di crescita, un momento in cui noi sviluppiamo nuove capacità, nuove competenze, possiamo migliorare noi stessi. E la perdita è un processo naturale della vita. Perdere è una cosa ineluttabile, veramente, a differenza di Thanos, veramente una cosa che succede a tutti prima o poi. Si perdono cose, si perdono soldi, purtroppo si perdono relazioni, amicizie, a volte anche proprio persone, nel peggiore dei casi. E comunque siamo vivi, cioè comunque in qualche modo o nell'altro riusciamo a tirare avanti. E questo ci dice che abbiamo la forza, la, scusatemi se uso una parola super inflazionata, però la resilienza per poterci rialzare e poter continuare ad andare avanti. Si dice che nei momenti più bui noi abbiamo la spinta per trovare la luce, per cercare quello che è la nostra parte migliore. Io credo che effettivamente sia così. Da piccolo, e vi assicuro che ho una certa età, c'era un cartone animato che si chiamava Pollyanna, non so se qualcuno di voi è sufficientemente vecchio di averlo mai visto, ma Pollyanna faceva un gioco. Cercava qualcosa di felice in ogni situazione. Può sembrare un gioco molto stupido, ma in realtà non lo è per niente, perché vi posso assicurare che anche nelle situazioni più negative, trovare anche un solo barlume di felicità, anche un solo barlume di speranza, può aiutarci a ribaltare la situazione. Ognuno di noi vive esperienze negative e possiamo lasciarci sommergere oppure possiamo continuare ad andare avanti. Un altro detto che mi piace molto è che non si muore affogati quando, diciamo, si viene buttato in un fiume, ma semplicemente quando si smette di nuotare. Questo perché? Perché finché noi nuotiamo contro la corrente, finché opponiamo resistenza a una forza contraria a quella che esercitiamo noi, continueremo a rimanere a galla, non affogheremo. Poi però può capitare di perdere le forze in quel caso, e in quel caso dovete trovare qualcuno che vi ridia la forza di nuotare, perché da soli vi posso garantire che non si può andare molto molto lontano. Questa è un'altra cosa di cui mi sono reso contro il tempo. Io sono una persona sempre abbastanza solitaria, come vedete faccio quasi tutto da solo. Creo set, mi occupo dei montaggi, faccio un po' di tutto, come ovviamente qualsiasi freelancer o qualsiasi content creator. Lo stesso nome del mio canale si chiama Set From Zero, cioè partiamo da zero, perché è da zero che io inizio a sviluppare ogni abilità. Però non da solo. A volte ho bisogno di insegnanti, persone che mi insegnino quello di cui ho bisogno. A volte ho bisogno semplicemente di compagnia, che mi dia la carica per poter fare quello che faccio giornalmente, quello che ogni giorno può essere la sfida da affrontare. Altre volte ho bisogno semplicemente di un consiglio, che probabilmente non seguirò mai, però semplicemente chiacchierare ha permesso alla mia testa di riflettere, di poter sviluppare delle idee. Se mi chiudessi me stesso e rimanessi da solo a pensare, probabilmente i miei pensieri virerebbero sempre da un lato piuttosto negativo. Perché questa è la tendenza che la maggior parte di noi ha, cioè quello di prendere un pensiero e vedere tutti gli scenari più negativi possibili. Invece molto spesso basta semplicemente alzarsi e pensare agli scenari positivi, a ciò che abbiamo e ciò che possiamo costruire con quello che abbiamo. Uno dei miei istruttori di arti marziali, sì ho fatto anche arti marziali, tendeva a ripetere questa frase che era ict e nunc, cioè qui e ora. È un poco che non la dico, probabilmente negli altri video ve l'ho ripetuta più spesso, però significa vivi il momento presente. Nel momento in cui noi viviamo il momento presente ci rendiamo conto delle opportunità che abbiamo in questo istante, non nel futuro, non nel passato, ma adesso, in questo preciso istante. Quelli che sono gli strumenti che sono a nostra disposizione, come possiamo unirli e cosa possiamo fare con quello che abbiamo a disposizione. Ognuno di noi ha almeno un'abilità, però molto spesso non la nota, non ci fa caso. Ognuno di noi è bravo almeno in qualcosa, ed è trovare quel qualcosa che ci permette di, diciamo, andare avanti o di avere successo. C'è chi è bravo a trovarla subito e a svilupparla e a farla diventare, diciamo, una vera e propria arma affilata col quale farsi strada nella società, c'è chi invece non la trova mai e si chiude in se stesso. Io ovviamente non sono uno psicologo, non mi permetto assolutamente di giudicare nessuno, ma in quei casi, se possibile, cercare l'aiuto di un amico, o di uno specialista può aiutare a uscire da un loop negativo, perché questo è quello che si era, un loop negativo. Un circolo vizioso in cui tendiamo sempre a rinchiuderci e dal quale non uscire mai. Alcune volte è patologico, in quel caso c'è bisogno di intervento di uno esperto, altre volte basta semplicemente una chiacchierata con un amico. Dipende, non c'è una regola unica. L'altro lato bello di noi esseri umani è che siamo vari e abbiamo, diciamo, ognuno di noi diverse sfaccettature. E in queste sfaccettature è difficile fare una media uguale per tutti, perché non esiste una regola generale, ma ognuno di noi può seguire una regola diversa. L'unica regola che invece vale per tutti è quella di non abbattersi mai, perché non ci è concesso. Perché nel momento in cui ci abbattiamo difficilmente riusciremo ad alzarci, a meno che appunto non ci sia una spinta a rialzarci e fare qualcosa. E spero che questo video possa essere un pochino la spinta per voi a domandarvi cos'è che potete fare, quali sono le capacità che avete. Un'altra cosa di cui sono abbastanza convinto è che noi passiamo l'80% del nostro tempo più a lamentarci di un problema che a risolverlo veramente. Perché c'è un restante 20% che sono le soluzioni al problema che si presenta. Possono essere strane, possono essere costose, possono essere folli, possono essere assurde, possono veramente essere fuori di testa. Ma mi assicuro che qualche soluzione si trova sempre. A volte io chiacchiero con un'amica che molto spesso è in difficoltà e cerco sempre di dargli qualche consiglio, una, due, tre, quattro, cinque opzioni che probabilmente non vede perché ovviamente quando uno è preso dal mare dei propri pensieri non riesce a vedere, diciamo, le soluzioni. Si focalizza sul problema e non riesce a vedere la mente lucida a vedere quali possono essere le alternative perché ognuno di noi in un momento di crisi non ha per niente la mente lucida ma un cavallo con i parocchi. Detto questo ragazzi spero che non vi sentiate mai sconfitti. Togliete la parola sconfitta dal vostro vocabolario. Lasciate perdita. Perdita è parte del processo di crescita. Io perdo e tutti quanti perdiamo qualcosa nella nostra vita. Alcune volte è una perdita necessaria alcune altre invece una perdita forzata. Qualcuna ci devasta addirittura ma in un modo nell'altro ci cambia radicalmente e ci permette di essere eventualmente delle persone più forti. Qualche volta addirittura persone migliori, se siamo fortunati. Ragazzi detto questo, se questo video vi è piaciuto, vi ha fatto compagnia, vi ha intrattenuto, semplicemente vi ha strappato un sorriso, mettete un like, iscrivetevi al canale, condividetelo con i vostri amici, eventualmente con chi ha bisogno di una chiacchiera e due parole. Spero che questo setup vi piaccia e se siete curiosi di sapere come ho allestito questo setup e che cos'è questo tubo a led, iscrivetevi perché ve lo spiegherò nei prossimi video, quindi non perdetevi i video che verranno. Detto questo, appunto, se vi va, ci vedremo nel prossimo video. See you next! Ciao!